Ho trovato una disfunzione della quarta dorsale, motivo per cui ci apprestiamo a liberarla. Allora, terza, quarta. Ok, Massimo è un po' in estensione, per cui cercheremo di aumentare la flessione dorsale per liberare meglio la vertebra. Alza la testa, ok, mi pieghi le gambe, tira sul bacino, fuori l'aria. Eccola qua. Voilà.